Tempamento Team of the Week 100k non scambiabili Lo esigo Lo voglio, lo bramo Me lo devi dare, ma invece entriamo nel negozio E ci sarà il Team of the Week Ah, si è trasformato, ho capito Brasile COC Ma chi cazzo era Davo, ma chi era uscito? Ah, bono 80, il mago Carlinhos No, non è che è fixato Regà, non è fixata la scritta È quello che tu lo fai per quel motivo Questo aggiornamento Team of the Week Ma sono uscite belle carte C'è uscito un bel evento Newcast, Olif, ma chi era? Trippi Allora, povero l'è buono Però, chiaramente Cree, grazie a te, ben tornato No, no, overall ci sta Ma poi quando cazzo è uscito Trippier? Però, me sa che finisce dentro un builder Ma sentimento, te direi Che sta a fare una roba assurda Però sta migliorando un pochettino Poi è altalenante Però è sempre un giocatore che se c'ha la partita secca Fa bene Se c'ha magari qua la partita Te fa la differenza Quella O una Però Basta con questi vecchi Ha portato birachi Di Marco Utoggi però Sì, c'è sta Però ha portato pure birachi Capito? Ma che c'hanno questi shareplay si server oggi? Guarda sto bel segnalino sotto quanto ci mette Eh, ti ho detto Poi ho detto Ognuno sceglie dove vuole giocare Però, sinceramente Ah, terza scelta Tanto è il titolare Sì, di Marco Utoggi Plea Buono Ma anche voi un weekend non dà Sì, non te lo dà Matti Non lo puoi avere Al momento Aspetta che non uscirà una patch e fixerò Lo sai, non lo so Forse con la Tukaf Ma buono Chirassi Hanno messo Darmianne negli obiettivi Stasera si fa Uro Grandi Squad Battle Pure siamo fatto 60.000 punti Se fanno delle belle battle stanotte Uro Boric Form 98 E si va a fare il grande Darmianne Bella che è notare Qui Yoshi Che vi ricorda che anche quest'anno È possibile acquistare I creditini per IAFC 24 Che sono appena usciti Con un servizio Ottimo di cashback Sono veloci E sicuri Soprattutto Ovviamente Con il codice sconto Yoshi Del 10% Ecco qui Quando lo potete applicare Vi sconterà Ci sono per tutte le piattaforme PC Rapido Un po' più veloce Un po' più Sai capito Riesce a fare 2-3 scambi De prima Simpatico Mi piace un po' De più sinceramente C'è meno cpu Mogo Me lo guardo Oggi me so In parte cosma Tornato come al solito Però me lo so divertito A giocare Su 5 Mi pesa proprio Gioca perché è lento Mi trascina E come quando le ditte Gioca a pesme Piano le madonne Vado eh Allora Aprivo prima quello da 1000 E poi quello da 2000 Sperando Non trova roba Se può fare Più o meno Se può fare Certo Perché Sony Gisher Non è comodissimo Se riesce a fare da Hollywood È meglio Però Chi c'è dietro Fawar Saga Su 5 Mi stanno a cadere Ma non sei il primo codice Ho detto Cercate quello Che vi divertete più Anche perché è un gioco Che dura un anno Non dura due settimane Insomma Ci impazzite Poi dietro Rottute final in prestito Vediamo che ci dà Beh Aguara ha trovato Iepiere Klaus Anche perché Insomma Saga che 5 minuti fa Era speciale Perfetto Che posso mettere Io rente ancora Poi dipende Se vuoi giocare più alto Che vuoi da tipo Cacciatore O altra roba Io davo ombra Voleva Aguara Agli obiettivi Bisettimanali Non si sono azzerati Non so Quando si azzerano De preciso Può essere Non si sono azzerati De venerdia E 19 Vediamo Questo è grosso Cioè questo In teoria Emberpacco 88 Più 65 Percento Bisettimanali Ogni due settimane Eh si fa una piega Ma non è walkout Con l'88 No non me di L'88 Ma l'88 È del picchi No è walkout Ma come Petri Mamma mia Che doppio Walkout De merda Le carte hanno Boostate Ah non so Male Dwif Tezze Suarez Amp Trap Hummels Mamma mia Che zella Che brutti Brutto pacco Devo fare altre 14 partite De Klaus Io mi pire Klaus Così c'ha 28 game Da fatte Devo provi per bene Nel dubbio Alla fine ha pagato 20 euro Sto Klaus Bono L'autodest Ma quello che Te pare Quel d'armian Io Quel d'armian È carino Ma che è quello Che ho trovato Sul secondo account D'armian è gratis Sta negli obiettivi Vi mettete tre giocatori Da serie A In rivals E battle E bofate C'è niente Di troppo difficile Ma non beccate Sto Carlinhos Tra l'automodri Beh Mofion De reita Sicuramente Appena Tre Due Uno Aguari è uscito Francesco Penso sia Algerino Inghilterra AS E mica Sarab City Manchester United Magari non femminile Bello Sti cazzi del workout Oh Bono 250k De Rashford Forte fragico Quest'anno Rashford Per base È un demonio Vedete Che te va via Uh Te malard Sto cubo Se voi volete fare Caffatevelo Adesso te Fanno Begli affari Eh Probabilmente Ce ne sanno Un po' Validi Ce ne stanno Dei giocatori Eh Dopo Rashford Ci vorrebbe Poi la ciliegina Sua la torta Ma bacia Lo bacia Mo bacia Mo bacia Mo bacia Mo bacia Mo bacia Milinkovic Savic Vabbè Un giretto De dietro Io Udamo Spero Mo bacia Perchè Prima Ah Rudiger Oddio Rudiger Si è Per cazzo Mio Bella Anculata Gli ha dato Eh Sì Tanto è doppio Non è uno scambiabile Andiamo a aprire Il pacco Del Sium 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 Bega Ma se Mo faccio Un cssbc Mo facevo Però Mi sa Che mo sta Cioè Oddio Ha perso Tipo 100k Beh Oh È speciale Questa Argentina Oh Di Maria Vabbè Ti dirò San just Io Ma il cazzo De rollo San just San just Ce sarebbe Artolandese Non mi è uscito Da nessuna parte Di Maria Rapi Vabbè Di Maria Da simpatico Certo sotto Veramente niente Però C'è Possato TD Dover Le va Dodò Ha quittato Un game A fine Mi sta schermato A bag Eh Una certa Sentenza Sbagga Devi chiuder Sperare Che Tata Ha vinto Mamma mia Ma io Che Sono Disperato Beccati C'è manco Una cartaccia Visto De peggio Ho visto Eh no Non c'è sotto Beccati Adesso S'arri Mamma mia Ma che vuol dire Andre Silva Mi dispiace Che giochi Qua Andre Silva Che stai Scontare Qualche tipo Di penitenza Hark Duglu Beh Lewandowski È meglio Ma c'è Artiro Che te Sfonna La porta 4-4 È meglio Lewandowski D'Andrea Silva Pronti E sapremo Il grande Aggiornamento Team of the week Sul Account Xbox Ma che poi Io gli sto a fare Su tutti gli account Perché poi Dici vabbè Tanto c'ho La roba non scambiabile La devo schertare Tanto male Fassero Ma la vera domanda Ma chi posso trovare Cioè Che dici Cazzo Bello Io ho trovato Trippier Che povero È pur onesto Però Boh Non me Sa che Né un campione Questo Mamma mia Della Alerta svizzera Che cazzo È Ah Tabakovic Che fortuna Accidenti Dante Solo sul primo account Ma tutti Ottanta Ebbene Questo sta 10k E vabbè Poteva Una peggio Poteva Una aprisse Proprio Poteva Poteva Poteva